In questa prima lezione ti spiego come mai se le tue piante tutti gli anni producono molti succhioni è un problema. Ciao io sono Francesco, sono un potatore certificato e ho notato che spesso e volentieri chi pota i propri olivi o anche chi lo fa di mestiere, gli pseudopotatori, si ritrovano praticamente tutti gli anni a dover togliere un sacco di succhioni. Questo chi conosce la pianta lo sa bene è un problema, ci sono diversi motivi, innanzitutto vi voglio spiegare il perché succede questo, da cosa è dovuta questa esplosione di succhioni. L'olivo è formato da due parti, le radici che assorbono nutrienti dal terreno e li trasferiscono alla chioma che vediamo tutti insomma. Il rapporto di volumi tra chioma e radice è pari, questo cosa vuol dire che noi quando andiamo a potare variamo questo rapporto chioma radice e la pianta cosa fa? Reagisce generando germogli a legno, i tipici succhioni per ristabilire quello che è stato tolto, per ristabilire il rapporto pari tra chioma e radice. Ovviamente in qualsiasi sistema di potatura questo un po' avviene sempre, il problema è quando tutti gli anni davvero vi ritrovate con tantissimi succhioni, come un'esplosione di succhioni. Questo è molto limitante perché oltre al fatto che la pianta spreca energie, se la pianta ha a disposizione un determinato quantitativo di energia e una parte la deve per forza di cose utilizzare per ricreare nuovi legni, quindi succhioni, non la potrà utilizzare per la produzione. Quindi state rinunciando a parte della produzione. Questo non vuol dire che la pianta non vi fa olive o ve ne farà poche, ne può fare anche tante, ma saranno sempre meno di quelle che sarebbero state con un sistema corretto di potatura. Non è l'unico problema perché purtroppo la pianta in questo modo viene molto stressata e è più vulnerabile alle patologie, alle malattie e se si dovesse ammalare è un ulteriore problema perché già sta utilizzando buona parte delle proprie energie per produrre legno, in più se dovrà usarne anche un'altra parte per difendersi potrebbe trovarsi in difficoltà oltre che rinunciare quasi del tutto a quel punto alla produzione. Ho visto piante messe talmente male che non avevano nemmeno più le energie di rifare nuovi ricacci, di generare nuovi germogli perché stavano combattendo contro patologie e utilizzavano praticamente quasi tutte le energie per quella cosa lì, quindi è bene non ritrovarsi in questa situazione. Il punto chiave è la forma di allevamento, infatti gli errori possono essere o che stiamo sbagliando proprio il sistema di potatura o stiamo esagerando con la potatura, però diciamo che la cosa più importante è seguire quello che è il sistema corretto di potatura, anche perché se non seguiamo quelle che sono le moderne e più efficaci tecniche agronomiche ci troveremo a dover perdere un sacco di tempo nella potatura, avremo una raccolta che non è così agevolata oltre che fare molte ferite inutilmente alla pianta. Questo cosa comporta? Comporta che spesso e volentieri chi non sa gestire gli oliveti al meglio a lungo andare si trova in difficoltà perché fatichi tanto e hai poco risultato e questo porta spesso purtroppo all'abbandono degli oliveti, è quello che io vorrei proprio evitare perché noi qui in Italia siamo i migliori a produrre olio di qualità quindi vorrei dare il mio contributo per tutelare gli olivetti italiani. Quindi come risolvere questo problema? Prima di tutto dobbiamo mettersi in testa di utilizzare la forma corretta di allevamento che è il vaso policonico, poi ne parleremo successivamente e dobbiamo anche imparare a fare una potatura equilibrata. All'olivo serve sempre avere nuovi germogli perché fruttificando sui rami dell'anno scorso ha sempre bisogno di rami nuovi sui quali produrre quindi dobbiamo trovare un equilibrio vegeto produttivo ovvero la produzione di rami che serviranno l'anno successivo e anche ovviamente la produzione di gemme a fiore che frutteranno l'anno in corso. Quindi per raggiungere questo obiettivo occorre la forma di allevamento giusta che mantenga inalterato l'equilibrio chioma-radice che mantenga un buon equilibrio vegeto produttivo che rispetti le esigenze della pianta che così non sarà stressata e potrà dedicarsi al suo processo produttivo. I risultati saranno una potatura molto molto semplice perché avete regole molto chiare dalle quali non si può sbagliare e quindi perderete pochissimo tempo per la potatura. Una volta che una pianta raggiunge il suo equilibrio la potatura è velocissima parliamo di 2-3 minuti bisogna fare veramente pochissimi tagli avrete quindi pochissimi succhioni tutti gli anni avrete pochissime ferite tutti gli anni avrete una pianta sana avrete la massima produttività possibile e la avrete nella zona medio-bassa la pianta sarà conformata in modo da rendere agevole la raccolta infatti avrete la maggior parte delle olive appunto nella zona medio-bassa ma non solo perché vi troverete con rami molto morbidi non andrete incontro a rami troppo duri che con gli abbacchiatori comunque si fa sempre fatica quando con l'abbacchiatore si va a scontrare contro rami duri quindi lavorerete nel morbido tutti questi vantaggi vi porteranno finalmente ad avere un'ottima gestione dell'olivetto e ne varrà anche la pena quindi anche da un punto di vista del profitto se calcolate le ore di lavoro e quello che produrrete ne varrà sicuramente la pena garantito al 100% perché facendo gare e corsi in tutta Italia ho potuto constatare da nord a sud i risultati veramente ottimi di queste moderne tecniche agronomiche non solo moderne ma soprattutto efficienti vi voglio consigliare oltre che di seguirmi e continuare con queste lezioni di formarvi in campo come ho fatto io presso la scuola potatura olivo in modo che potrete anche affrontare un percorso formativo e diventare come me un potatore certificato che è una figura molto importante perché per essere potatori certificati bisogna aver superato determinate prove oltre che aver partecipato a determinati corsi e quindi viene certificata la conoscenza e la pratica per la potatura seguimi ovviamente qui su youtube perché farò sempre tanti video se vuoi proseguire invece con queste lezioni le trovi nell'area didattica se non sai ancora cos'è l'area didattica ti lascio qua sopra un link con un video dove te lo spiego ti lascio il solito link del video anche nei commenti se hai difficoltà ad aprire il link per qualsiasi motivo vuoi altre informazioni scrivimi nei commenti di questo video oppure mandami una mail a fra kicks shop chioccio alla gmail.com mi raccomando ti aspetto sull'area didattica e qui su youtube ciao 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 ciao